bricchini e bricchini a tutti, questo è un prossimo video di Brawl Stars, siamo insieme a Smello e a Mars che andiamo a fare un piccolo box opening e andiamo a potenziarci anche tra i brawler li abbiamo scelti insieme in live, ragazzi siamo venuti in live su Twitch o Bipiccio di botte no nel senso, lo faccio faramello comunque abbiamo scelto di potenziare Bo, quindi Bo livello 9 poi Penny livello 9 e adesso apro le casse e dovrei potenziare anche potenzialmente Mr. Pie vediamo, ricompense, abbiamo 4 casse enormi, vediamo, apriamo la prima cassa dove troveremo un emerito, caro di niente posso potenziarlo subito? No, mi sa che devo prendere almeno 2 vabbè, seconda cassa vediamo un po' 161 posso potenziarlo, quindi lo potenziò subito che mai che trovo non lo so, una star power è difficile che trovo una star power però dove è nel frattempo Bo? Bo! ragazzi abbiamo queste due casse io direi che ci facciamo prima la partitella in footbrawl e poi aprimo le altre due casse infatti è un po' bello scrivo qualcosa non capisco le passo mio marito vabbè, pronto, dai comunque siamo a 25.500 siamo messi abbastanza bene la prossima season ragazzi pusho pusho mi sono già messo d'accordo con alcuni alcuni miei amici ci mettiamo un po' a pusciare non non esagerato però almeno un 2000 coppe 3000 coppe in più le vorrei avere mettiamo il totem via ball ho fatto il tempo a lanciarla buono bel colpo bel colpo a parte mia uh mamma mia rischius facciamo qua le bombette aia bello bel colpo bel colpo la parte di Mars ok questi giochicchia non sono un po' scarsi 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 eh fatevelo dire ve lo dico con tutta disonesté tranquillité fraternité regalité aha explosion via palla non c'è la passata non c'è la passata non c'è la passata bello bello grande mello via via palla dai ragazzi non ci posso mai credere dai ci sono fatti pippare ci sono fatti pippare cioè pippare ci sono fatti pippare come dei pipponi siamo delle pippe non esiste facciamo un'altra mannaggia di quella vacca non esiste facciamo un'altra avrete le box più tardi non rompete le scatole tanto se volete schippare lo so che schippate quindi schippate nel caso mannaggia di quella vacca ben colpo da parte mia ora grande smello grande smello io vorrei mettere qualcosa eh come faccio come faccio non posso insomma la bombetta qua recuperiamoci un po' di vita buono buono qualcuno fermi buona dai 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 no 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 dai l'ha tirato a caso voleva prendere me l'ho preso me dai 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 hola mamma mia mamma mia va bene va bene va bene va bene ragazzi approcci queste due ricompense e ci s'allustriamo qua ragazza norme numero 1 troveremo come merito cavoli niente ragazza norme numero 2 in cui troviamo dei raddoppagettoni meglio che niente vabbè ragazzi vi ringrazio per la visione vi ricordo di commentare se non mi piace con il video vi iscrivetevi e attivate la campanella l'hai letto questo vi saluto qui e addio e grazie per il pesce ciao a tutti